Dal 3 al 6 ottobre sul lungomare di Napoli torna la terza edizione di Baccalare, rassegna gastronomica dedicata al baccalà, preparato da 11 chef stellati in diverse varianti. Dall'antipasto al dolce i piatti saranno realizzati esclusivamente con la parte più pregiata del pesce, alimento proveniente dai freddi mari del nord ed entrato a pieno titolo nelle tavole dei napoletani. Si apre un ristorante di grande qualità che recupera tradizioni antiche. Baccalà arriva in questa città, in questa regione fra il 1400 e il 1500, che mette in campo ben 11 chef stellati, un evento che non ha molti precedenti nel nostro paese e che ospita e accoglie davanti ad un lungomare meraviglioso. Quindi mettiamo insieme tradizione, qualità, innovazione. Si offre un'occasione per i cittadini napoletani, per i turisti, per l'immagine di questa città nel mondo più unica che rara. Organizzata da Vincenzo Varriale, la manifestazione vuole promuovere il baccalà autentico con le sue antiche tradizioni di stagionatura e salatura. È un percorso esperienziale come quando uno va a cena in un ristorante stellato, si entra e si degusta le creatività e le trasformazioni del prodotto in forma gourmet. Il prodotto è un prodotto di prima scelta, useremo il miglior baccalà esistente sul mercato, infatti abbiamo investito moltissimo su questo. E spiegheremo durante la manifestazione che c'è molto falso sul prodotto, ci sono delle cose che fanno passare per baccalà ma quando poi non è baccalà. Noi faremo con forza una serie di iniziative volte a raccontare il vero baccalà, da dove viene, come proviene e la qualità e le sue proprietà nutritive. L'anno scorso, nelle precedenti edizioni, abbiamo fatto almeno 250.000-300.000 persone di flussi e sono tanti. Quest'anno ci aspettiamo qualcosina in più, visto anche il parterre importante che abbiamo visto sui moto.